Il momento più atteso, signori, sembra veramente si stia avvicinando, ma veramente di brutto, perché i colpi di scena potrebbero addirittura non mancare. Ci sono infatti novità su Ilari Blasi e Francesco Totti dopo la loro separazione e a riportarle è il Corriere della Sera stavolta. I due per ora si stanno concentrando, sappiamo sugli ultimi giorni che sono rimasti per quanto riguarda le vacanze. Lui intanto è rimasto a Sabaudia, mentre la conduttrice televisiva è all'estero, in Croazia. Ma attenzione perché stanno per finire le vacanze e capiamo cosa succederà. Gli atteggiamenti avuti da Ilari e Francesco Totti dopo la separazione sono stati diversi, ne abbiamo parlato infatti tantissimo. L'ex calciatore della Roma ha mantenuto maggiormente il silenzio intorno a lui, facendo parecchia attenzione a non farsi beccare troppo dai paparazzi. La presentatrice dell'Isola dei Famosi non si è invece fatta troppi problemi ed è stata lei stessa a farsi vedere in maniera pubblica mostrando immagini legate alla sua estate e alle splendide ferie che si è meritata dopo mesi di duro lavoro. E allora il Corriere della Sera è riuscito però ad apprendere in anteprima anche cosa pensa l'ex atleta di questa situazione e come vorrà risolvere la questione. Ilari Blasi e Francesco Totti dopo aver certificato la rottura devono pensare alle pratiche di divorzio e tra poco dovrebbero esserci proprio le prime novità. Ma c'è chi è un po' scettico sulla risoluzione immediata delle controversie, soprattutto in seguito ai comportamenti avuti dalla conduttrice tv negli ultimi giorni. Quindi capiamo che succede. Il Corriere ci ha detto il primo incontro tra le parti, se tutti collaboreranno, potrebbe svolgersi già giovedì 1 settembre, al più tardi il lunedì 5, per entrare nel vivo intorno a metà mese. Se Francesco Totti e Ilari Blasi troveranno un accordo, la questione potrebbe risolversi in fretta, in via consensuale. Se invece dovessero sorgere contrasti e problemi, ipotesi non improbabile, la separazione diventerebbe giudiziale, approdando in tribunale con il rischio di durare fino a tre anni. Infine è stato riferito che il desiderio di Francesco è che il tutto avvenga senza ulteriore clamore mediatico, cioè nel senso troppo casino nel web su tutta questa storia. Vorrebbe stare più tranquillo su questo casino che già per lui lo è. E allora staremo a vedere se si giungerà immediatamente ad un accordo consensuale o, per caso, se gli avvocati avranno più difficoltà del previsto per poter, perché prima o poi si farà, chiudere la pratica. Questo è tutto signori per questo aggiornamento, vi ringrazio per l'ascolto e alla prossima.